Debutta anche in Abruzzo il nuovo vaccino contro il Covid, una versione aggiornata alla Omicron e alle sue sottovarianti. Il Ministero della Salute ne raccomanda la somministrazione a chi deve ancora ricevere la quarta dose, sempre che siano trascorsi 120 giorni dalla somministrazione precedente o dalla guarigione della malattia. Nel mentre però l'ultima osservata speciale in ordine di tempo è la variante detta Centaurus, anche se uno studio recentissimo evidenzia la sua minore capacità di espandersi rispetto a Omicron 5. Però sorge un dubbio ed è anche legittimo. Corriamo dietro alle varianti, sì ma le raggiungiamo solo quando hanno già superato il traguardo? Nel momento in cui ho una variante il tempo che ci metto a mettere su un vaccino specifico magari ne arriva un'altra, però non dimentichiamo che anche Centaurus comunque è figlia di quei ceppi là, per cui sicuramente con il vaccino contro il ceppo di Wuhan siamo riusciti a tenere comunque a bada anche l'inglese, la Delta eccetera. Poi Omicron era tutta un'altra cosa e là si è visto che non reggeva più e quindi adesso avremo un vaccino che ci dovrebbe tutelare contro le varie forme di Omicron, si spera anche dalla Centaurus, ma la cosa importante è capire quello, i vaccini andranno aggiornati. Noi abbiamo una situazione che è totalmente diversa dalla storia delle malattie infettive, perché qui ogni variante nuova che esce in una settimana ha fatto il giro del mondo e diventa pandemica. Prima ognuno aveva la sua variante endemica e chi si immunizzava con quella poi stava a posto. Adesso no, quindi l'idea dell'immunità di greggio e l'idea che si trasformerà da sola in endemia purtroppo non regge, non funziona così. All'inizio avevamo creduto che un vaccino ci avrebbe coperto, non dico per la vita, ma quasi. Che cosa è successo? Comunque questi vaccini si è visto che hanno un'emivita, cioè che nel tempo, ma del resto anche per l'influenza non ci dobbiamo vaccinare ogni anno. Attenzione, a me questo non preoccupa. Quello che provoca è che chiaramente mentre l'influenza al peggio può anche fare 6-7 mila morti l'anno, qui parliamo di numeri decisamente superiori e quest'estate abbiamo continuato ad andare avanti anche adesso a 80 morti al giorno, che non è un bel biglietto da visita per l'autunno. Quindi la vera preoccupazione è la patogenicità di questo virus. Sicuramente ben vengano questi nuovi vaccini contro le varianti perché andare avanti con quarte e quinte dosi di quello vecchio avrebbe avuto poco significato. Lei ha parlato di morti ed è proprio una delle domande che volevo farle. Ce ne sono ancora tanti, dire troppi quando si parla di morti è una stupidaggine perché anche uno è troppo, però ce ne sono ancora troppi a fronte di invece numeri di contagi tutto sommato bassi perché dopo quasi tre anni non sappiamo ancora distinguere fra morti per Covid e morti con Covid. È un dato che non viene fornito. Il Covid dà una sintomatologia precisa, cioè se io ho una polmonite bilaterale e magari ero un soggetto nefropatico per esempio è chiaro che sono morto per il Covid, poi magari sarei morto di là due mesi perché ho 90 anni per la nefropatia. Se invece la causa della morte è un problema cardiaco in una persona che era positiva al Covid potremmo anche dire che è morto col Covid. In questo momento noi non abbiamo una reale percezione degli infetti perché i maledetti tamponi fai dati a casa ci fanno totalmente perdere la realtà. Sicuramente la prevalenza delle infezioni è molto più alta di quella che pensiamo e quindi probabilmente diciamo che se il ceppo di Wuhan faceva un morto ogni 100 infetti forse adesso stiamo morto ogni 1000. Il problema è che siccome il numero degli infetti è enormemente superiore a quello che noi avevamo all'inizio, il numero totale dei morti resta alto. Quindi anche se si sono ridotti di 10 volte in percentuale il numero assoluto resta alto perché gli infetti sono paradossalmente più di quando arrivò il virus all'inizio e di quando ci aveva anche trovato un po' impreparati. Io poi continuo a dire che il fatto di decidere a un certo punto che era tutto finito quando i dati epidemiologici dicevano che non era tutto finito è stato un errore. Però è chiaro che questa è stata una scelta politica per cui io non entro in merito ma non l'ho capita, ecco dico la verità.